Oggi continuiamo a vedere le navi pesanti inglesi e per l'occasione andremo a vedere nello specifico l'incrociatore di livello 7 su Ray o come si pronuncia Andiamo a vedere subito le sue caratteristiche, abbiamo esattamente una vita pari a 37.750 Ci tengo subito a specificare una cosa, la vita della nave è inferiore, è aumentata semplicemente perché ho preso in prestito dalla linea dei cacciator pedinieri In particolar modo del daring il capitano, questo capitano che vedete non è, non sarà dei miei incrociatori pesanti Sono costretto ad utilizzarlo perché al momento altri capitani non ne ho e sinceramente utilizzare l'esperienza libera del capitano non mi va nella maniera più assoluta Anche perché ho altri progetti, quindi primo punto da capire, il capitano che vedete non è quello che servirebbe a questo incrociatore, a questa linea di incrociatori Detto ciò, andiamo avanti col dire che abbiamo cannoni da 203, tempo di ricarica 12.5, probabilità di incendio 15%, gittata massima 14.8, danno a HE 3.300, danno a P 4.500 Abbiamo poi Siluri, 2 torrette con 4 tubi, tempo di ricarica 96 secondi, danno massimo circa 16.000, portata a Siluro 8 km, raggio di rilevabilità 1.3 Difesa contro l'aereo abbiamo 58, manovrabilità, velocità massima 31.5, tra l'altro dovrei avere qualche bandiera per avere uno sprint maggiore, bandiere economiche e quant'altro No, fondamentalmente da combattimento, sì, abbiamo un po' un misto fritto Abbiamo poi la mimetica americana perché, ripeto, mi dà dei bonus che mi servono Dobbiamo dire inoltre che abbiamo una mimetizzazione pari a 9.7 dal mare e a 5.6 dall'aria Abbiamo la possibilità di portare con noi i seguenti consumabili Il velivolo da ricognizione, abbiamo qui la scelta sbarramento contro aereo oppure ricerca idrofonica Abbiamo poi la possibilità di recuperare vita e poi abbiamo il classico tasto R Questo è l'incrociatore di livello 7 inglese pesante Andiamo in partita per vedere come se la cava nelle diverse circostanze Partita E allora andiamo a vedere una partita con il nostro incrociatore di livello 7 inglese Siamo accompagnati per questa missione da Barba e da Frask rispettivamente Surrey e Zara Siamo in un matchmaking con navi fondamentalmente di livello superiore Navi di livello 8 e di livello 9 Quindi noi faremo particolare fatica a gestire il tutto Tra l'altro abbiamo contro la portaerei di livello 8 Quindi un ulteriore problema a quello che è il matchmaking stesso Fondamentalmente la tattica rimane una Cercare di sopravvivere il più possibile con una nave di livello 7 contro navi di livello superiore Capirete bene che non è una cosa facile Tra l'altro avevo diverse partite da potervi portare come gameplay per quanto riguarda questo incrociatore Però ho deciso di farvi vedere questa partita perché per l'appunto ci sono navi di livello 8 e 9 Quindi se già la nave è in grado vedremo di gestire delle navi di livello superiore Contro navi di livello inferiore dovrebbe essere una semplice formalità Tra l'altro vi ricordo che se volete provare il gioco completamente gratuito trovate il link in descrizione Il link che vi darà accesso a due navi premium L'incrociatore Diana sovietico di livello 2 La corazzata Warspite corazzata inglese di livello 6 sempre premium Più una serie di vantaggi Per ricevere i suddetti vantaggi basterà semplicemente utilizzare il link in descrizione Se qualcuno fosse interessato alle mie live streaming Mi trova quotidianamente sul mio canale mixer a partire dalle 14.30 C'è un calendario, ci sono gli orari, ci sono i giochi, c'è tutto quanto La porta aerei tra l'altro qui purtroppo mi verrebbe da dire si è allontanata Mentre avevo attivato il mio rinforzo contraereo E soprattutto il mio consumabile che dà ancora più potenza all'antiaerea Quindi abbiamo buttato giù un solo aereo Erano dei bersagli ideali perché essendo assaltatori avevano anche meno vita Rispetto a aereosilluranti e bombardieri Perlomeno dovrebbe essere così anche per quanto riguarda gli americani Fondamentalmente c'è un solo cacciatore periniere Molte corazzate e molti incrociatori Fortunatamente mi verrebbe da dire un solo cacciatore periniere Così può essere più facile da gestire per quanto riguarda il ruolo della nostra Kaga Livello 8 premium giapponese Tra l'altro le porta aerei nell'ultimo periodo le ho un po' come dire Le ho giocate davvero poco rispetto a prima Perché comunque se ci pensate bene Ci sono davvero tante cose che bisogna sbloccare I nuovi incrociatori inglesi Quando ci sarà il nuovo refarm Diciamo da livello 8 Degli incrociatori sovietici Chi non ha il Moskva deve prendere il Moskva L'ufficio di ricerca che fra pochi giorni ricomincia Vi farò vedere un video su come sfruttare al meglio questa cosa Ci saranno le nuove navi con l'esperienza libera Con l'acciaio Insomma capirete bene che c'è davvero molta carne a cuocere E purtroppo crediti, esperienza libera e quant'altro Non è sufficiente per poter fare tutto quanto Quindi devo un attimo cercare di fare le cose a piccoli step Adesso mi sto concentrando per quanto riguarda gli incrociatori inglesi Qui andiamo a fare un 4600 Più un incendio Non siamo spottati Qui i nostri buchi purtroppo A quanto ho visto si è andata a scantare contro l'isolotto E quindi è stato Era un facile bersaglio per quanto riguarda i nostri nemici Di più Come potete ben vedere sulla minimappa La nostra squadra è fondamentalmente tutta sul settore di Charlie Su Alpha avevamo un e-book Una Colorado Il sottoscritto E una John Bart Che si sta ritirando Quindi fondamentalmente siamo Due navi contro un Alsace Contro una Bismarck E contro due incrociatori Che stanno scendendo sulla colonna 1 Qui le cose da fare sono davvero poche Nel senso che dobbiamo cercare di rallentare il più possibile Con una nave che sicuramente Non è buona per questo ruolo I siluri purtroppo arrivano a 8 km Non sono i 10 km Quindi questa giocata Come dire Poteva avere successo Se fossero stati i siluri da 10 km Invece da 8 km Si vanno a spegnere letteralmente davanti al nemico E purtroppo questa è una cosa molto grave Perché magari lui avendo riparato Tra l'altro il singolo incendio Poteva tenere a bordo un allagamento E quindi ancora più danni per il sottoscritto Nuovo lancio di siluri Davvero molto molto preventivo Per cercare di Come dire Intercettare la corazzata francese E qui dobbiamo fare semplicemente una cosa Ragazzi non dovete neanche pensarci tanto Dobbiamo cercare in qualche modo Di dare fastidio Alle corazzate e alle navi sul settore di alfa Vi ricordo ancora una volta Che siamo noi Insieme a una colorado Quindi vedete qui andiamo ad assorbire un colpo 1190 Dobbiamo giocare particolarmente Con il nostro timone Una nave di livello 7 Che si vede davanti di tutte queste navi Insomma Non è una cosa facile Tra l'altro qui Il secondo incendio sta continuando A farmare punti Danni Sulla nave nemica Purtroppo questi turi non vanno a segno Per la nostra immensa sfortuna La corazzata francese non ha seguito Quello che è il percorso che Avrebbe condotto Da noi In realtà Ha preso il cap E qui fa una cosa Anche più Come dire Apprezzabile Per la sua squadra Noi comunque cerchiamo Ancora una volta L'incendio Avete visto che Abbiamo fatto tipo Quanti danni da incendio Eh sono un bel poggia Siamo saliti a 30.000 Comunque Ridendo e scherzando Dobbiamo in qualche modo Cercare di Continuare Questa ritirata A tutti i costi Tra l'altro La agitata Massima Della nave Non ci consente Di fare delle giocate Di allontanarci Ulteriormente Perché altrimenti Il colpo Non arriva Utilizzando L'aereo Da spotting Guadagniamo Gittata Però sinceramente Come visuale Non mi piace Quindi preferisco Avere questa visuale Classica Diciamo così Continuiamo Sull'Alsas Qui purtroppo 1893 Tre perforazioni Una mancata perforazione Dobbiamo cercare L'incendio Nella maniera Più assoluta Tra l'altro La Colorado È stata appena distrutta Quindi capirete bene Che avere Una corazzata francese È una corazzata Bismarck Dietro di noi Con questa nave Diciamo che La cosa Non mi fa Entusiasmare Più di tanto Anzi 237 A 355 3000 Chiamateli 4000 Più incendio Che va a spegnere Ancora una volta Subito Quella corazzata Non ci dà La possibilità Di avere Ehm Diciamo Di fare Ulteriori danni Lui decide Tra l'altro Di sganciarsi Dal mio Dal nostro Combattimento Per dare una mano Evidentemente Sul settore Di Bravo Quindi La cosa che possiamo Fare noi Di risposta È di continuare A sparare Non contro La corazzata Francese Ma di sparare Contro La corazzata Bismarck Che Ha Tutti i punti vita 69000 E full vita Ok Corazzata Di livello 8 E iniziamo Lo scontro Contro La corazzata Tedesca Uno scontro Che personalmente È abbastanza Complicato Qui Sapevo perfettamente Che la corazzata Francese In qualche modo Avrebbe provato Nuovamente A spararmi Quindi un occhio Anche sulla destra Perché lui sta uscendo Vedete che io Sto facendo questa Giocata Proprio perché Ho il lato destro Al momento Coperto Non mi sta sparando Nessuno La nostra Corazzata Va a timbrare Il Miogo 360 A 300 Abbiamo un leggero Vantaggio Per quanto riguarda Le navi Una singola nave Loro hanno Il settore di alfa Che è impossibile Da cappare per noi Noi Abbiamo il settore Di Charlie Questa nave Che mi sta puntando È la corazzata Francese Come vedete Mi ero Diciamo Non l'avevo Dimenticata Del tutto Qui i suoi colpi Vanno completamente Nell'acqua Continuiamo A sparare Qualche colpo Alla corazzata Francese E poi Arrivano Tra l'altro Anche i colpi Della corazzata Bismarck Un doppio incendio Finalmente Siamo saliti Ridendo E scherzando A 72 mila Danni Qui purtroppo Dobbiamo dire Una cosa Il capitano Che abbiamo visto Che io vi ho detto Ve lo ripeto Essere il capitano Del cacciatore Periniere È appunto Il cacciatore È il capitano Di quella nave Non è il capitano Di questo incrociatore Quindi Purtroppo La quantità Dei consumabili È inferiore Rispetto a quella Che effettivamente Mi sarebbe servita Andiamo qui Per Forza Cercare un lancio Con i siluri Tanto lui Comunque mi andrebbe A spottare Lo stesso Perché sta Entro in 9.7 km E a 9 km Quindi Anche se non dovessi sparare Lui continuerebbe A vedermi Tranquillamente I primi siluri Sono andati Completamente Fuori Bersaglio Però come avete visto Anche se sono 8 km Di distanza Io lancio Lo stesso I siluri Perché comunque Lui si sta Avvicinando di me Quindi lui Andrà ad entrare Dentro I miei 8 km Di range Per quanto riguarda I siluri stessi Basterebbero Un paio di siluri Per far cambiare Le sorti Di questo combattimento Che abbiamo Deciso di affrontare Dall'inizio Alla fine Un siluro Viene messo a segno Per nostra Immensa felicità Siluro Che fa imbarcare Acqua La corazzata Nemica Va a spegnere Immediatamente Il La sua A riparare La sua falla Purtroppo Siamo nel Raggio Anche Delle secondarie Qui tra l'altro La portaerei Dopo tanti minuti Decide di arrivare A darmi una mano Io praticamente Sto scappando Da un'ora Sebbene ricordate Eravamo sulla colonna 3 In D3 Stiamo scappando Siamo scappati Da una corazzata Francese Da una corazzata Eh Tedesca Che ci sta dando La caccia Più due Incrociatori Che comunque Erano presenti Quindi più di questo Secondo me Non si può fare Abbiamo avuto Stiamo avendo un ruolo Abbastanza Sporco In questa partita Nel senso che O lo facciamo noi Oppure non lo fa nessuno Ciò nonostante La Bismarck È scesa A 5214 Punti Quindi qua Si tratta di Prendere una mira Per gli ultimi colpi E cercare di portare La kill a casa Ancora una volta Andiamo ad assorbire 2320 Tra l'altro Qui se avesse avuto Una nave di livello 8 Probabilmente qualcosa in più Sarei riuscito a farla Ancora una volta 545 2491 Cerchiamo l'incendio Cerchiamo tutti i cannoni 1402 Non vuole morire È incredibile È davvero incredibile Quello che sta succedendo 875 Rimane a 500 Lui purtroppo Pesca il 7000 Perché mi sono aperto troppo Vediamo Fa una virata brutta Sta recuperando vita Non ci voglio credere Ragazzi Veramente Non ci voglio credere Quello che sta succedendo È davvero incredibile Abbiamo azzerato Una Bismarck Praticamente Da zero Qui purtroppo Non mi ero neanche reso conto Di essere Sul bordo Della mappa Come vedete Sto facendo una virata Sulla Destra Me ne sono accorto Dopo molto tempo Di essere Sul bordo Mappa È stato un errore Più che altro Perché stavo sparando E non ho visto Dove andava la nave Tutto qui Appena mi rendo conto Che sono sul bordo Mappa Viro immediatamente Perché Non sono una persona Che utilizza Il bordo Mappa Virata secca A destra Anche se questo Ci porta A praticamente Pochi chilometri Dalla Bismarck Un altro incendio Sulla Bismarck Veniamo timbrati Veniamo timbrati Lui rimane A 846 Ora Possiamo dire Due cose Su questa Fuga Sulla Bismarck Che tra l'altro Mi ha fatto anche complimenti In chat Ha scritto Good game Per quanto riguarda La mia nave Abbiamo fatto 128 mila danni Poteva concludersi Il tutto Con una kill Sarebbe stata meritata Però C'è stato un colpo In particolare Che non sono riuscito A mettere a segno Perché lui ha fatto Una virata Che mi ha colto Di sorpresa La partita Sarebbe completamente Cambiata Se avessi fatto la kill E sarei potuto tornare Su alfa Cosa che purtroppo Non avviene Fortunatamente Il nostro compagno Barba Era nelle vicinanze E si prende la kill Sulla Bismarck Abbiamo tankato Per circa 1.600.000 128.000 danni 9 incendi Ragazzi Vediamo i risultati Posto scontro Cosa ci vanno a dire Risultati posto scontro Proprio Inteno Grazie per la visione!